Buonasera, benvenuti al Maracanà, siamo qui con Francesco Iovino, capitano del Bayern Monaco che stasera si è qualificato matematicamente ai play-off del Champions League del Trofeo Jack 2014-2015, vincendo al tavolino contro l'Atletico Madrid di Nappi, che ormai è la seconda parte del tavolino. Questo Atletico Madrid l'hanno battuto solo due squadre, CSK Mosca di Alberto Seve e il Bayern Monaco, una vittoria che serve ai fini della classifica per una vittoria che forse voleva ottimire sul campo. Buonasera a tutta l'organizzazione del Trofeo Jack, ringrazio l'amico Gigi Nappi che ci ha reso la vita un po' più facile questa sera, anche se ci ha dato questa vittoria a tavolino. Io l'avevo detto e lo ripeto per l'ennesima volta, 5 partite, 5 vittorie, siamo andati nei play-off di Champions League, cercheremo di onorare al meglio questo torneo con la squadra al completo, tutti quei pagliacci che ho nella lista che verranno tutti quanti presi casa per casa, anche con l'aiuto di De Pascali che è di fronte a me, e di mister De Sena che mi ha messo un po' di esperienza all'interno della Rosa. Il presidente Quarente mi ha dato questo difficile compito di assemblare questo gruppo difficile ma allo stesso tempo bello, è stata una bella esperienza questo campionato, complimenti per l'organizzazione, lo dico anche se ho fatto macelli dall'inizio, qualche polemica, e niente io cercherò di onorare anche la Champions League, ringrazio ancora Gigi Nappi che è dietro le quinte. Dopo i ringraziamenti dovuti a Nappi eccetera, i compagni, a tutti i dati. Io non ho dato niente, la gente dice che io mi compro le partite dando le magliette, facendo i piacere, Gigi Nappi è un amico, se non ci arrivavo tramite Gigi, ci chiamavo Gianfranco, ma anche con una sconfitta in playoff sarebbe stato quasi c'è anche il nuovo acquisto qua stasera che da regolamento doveva venire sul campo, lo inquadriamo infatti, è venuto sul campo per rendere ufficiale questo acquisto, si doveva non giocare per farlo venire. Con De Pascali in squadra questo Bayern adesso ha concluso la campagna di pista. Io penso che abbiamo alzato le tappensionabili con De Pascali in squadra, perché è un altro elemento tra parentesi ricotta. Ma oltre a battere l'Everton punta la Champions questo Bayern? Noi alla fine puntiamo a arrivare fino alla fine della Champions, poi alla fine vediamo che succede. Abbiamo un organico, ne parlavo con Felice, di tutto rispetto, se si decidono forse a giocare a calcetto, che non è calcio questo, cerchiamo di fare il possibile per arrivare fino in fondo, anche se la vedo difficile perché ci sono squadroni come il Napoli, l'Atletico Madrid fa finta, ma alla fine si attrezzerà di nuovo. Ho saputo che molto probabilmente giocherò contro la mia ex squadra. Parliamo di questo, forse il play-off contro il Valencia sarà dura? Sarà dura a batterli? No, a malincuore dovrò giocare contro il Valencia, sarà dura a battere però già che gioca due fratelli. Sarà dura per un fatto sentimentale? Sentimentale sì, però nel calcio quando entri nel campo alla fine si toglie la mano dal cuore. Va benissimo, ringraziamo anche Raffaele Quarenta che non è venuto. Soprattutto, è felice Marrakesh, io ho regalato una tuta colorata perché il nero porta sfortuna. Quindi li aspettiamo al campo. Siamo pronti, noi siamo pronti. Forza Bayer, questa vittoria è dedicata a tutto il trofeo Jack perché questa è la vittoria di un gruppo e delle persone caparbie perché hanno detto 5 partite, 5 vittorie. Io quella sera l'ho detto, me ne andai da qua incazzato con te, con loro, con tutti quanti, ma alla fine ce l'ho fatta. Io porto sempre a termine. Ogni promessa per me è un debito. È una vittoria soprattutto di Francesco Iovino che abbiamo già detto tantissime volte, ci ha messo sempre la faccia. Facciamo parlare gli altri, non parlo io. Ci ha messo sempre la faccia, anche stasera. Infatti il mio amico dice, una volta che è fatto capitano è finita. Va bene, ringraziamo il Fireman. Grazie al trofeo e grazie al Maragano. Grazie a te.